Amici di Youtube e di Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, buon mezzogiorno e soprattutto buon 6 agosto, buona domenica a tutti quanti, anche di domenica siamo sempre presenti con l'edizione giornaliera, un applauso, un like come sempre, perché non lo ripeto mai, perché non sono molto assillato sui numeri, però, però. Diamo anche noi il vostro, date anche il vostro contributo alle edizioni di Cuori Nerazzurri Veri e non di Tristoni e di Pagliacce, perché ne stanno uscendo tanti negli ultimi giorni e a me sta cosa mi fa incazzare. Ieri ho fatto un video un po' sui nervi, ma non tanto, perché chi mi conosce, soprattutto gli amici del vecchio canale, sapranno benissimo che quella non era lo sfogo, perché a me qualcuno mi ha già visto incazzato veramente, quindi diciamo che... Fortunatamente, in questo nuovo canale bisogna un po' calmarsi, infatti sto tenendo un po' i ritmi bassi, però calma perché quando poi uno perde la pazienza la perde. Allora, buona domenica a tutti quanti, ieri abbiamo lottato, parlo degli interisti veri contro i, come dire, no, i Tristoni, i finti occasionali, perché alla fine questi sono occasionali, questi qui è gente che non dorme la notte perché deve pensare che l'Inter deve prendere l'attaccante, deve prendere Sommer, deve prendere tutto... Poi, alla fine sono anche coglioni perché su Sommer abbiamo sempre detto che è una questione di tempo e noi abbiamo il canale di Marco Marco 1908, ha sempre rassicurato i tifosi sulla questione Sommer, infatti è arrivato perché adesso, oggi, tra qualche ora arriverà a Milano e sarà già in campo col Salisburgo. Samaric, fatta, detta, esclusiva da me, quattro giorni fa, ufficiale, che arriverà già entro lunedì o martedì già ad Appiano a fare la sessione mattutina di allenamento, quindi se volete andare, sapete anche gli orari, insomma, quindi potete andare a farvi il selfie con il mago serbo, che gasa tantissimo perché è un centrocampo Samaric, Brozovic, sì Brozovic, Brozovic è andato, Samaric, Cialanoglu, Frattesi, Samaric, Cialanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Parella e Aslani. Ragazzi, chi passa? In primis chi passa e poi voglio vedere anche davanti con i numeri, voglio dire, cioè, chi fa gol e chi fa gli assist perché, voglio dire, siamo, è bella combattuta la scena, quindi, però, comunque, io ripeto, noi lasciamo lavorare in tranquillità, marotte, ausilio e vaccini perché sappiamo la competenza che hanno e non sono gli ultimi arrivati, poi, i cialtoni, i tristoni fanno il cazzo che vogliono, poi, a me fa ridere sentire, ah no, ma Scamacca, di qua, di là, Scamacca è saltato, Scamacca ha scelto di andare alla palanta, non c'è nessun problema, cazzi suoi, voglio dire, ha fatto la sua scelta, a me, Scamacca, non mi ha mai fatto impazzire, è un buon giocatore, ma come ce ne sono a bizzeffe, perché, uno come Scamacca, che fa dieci gol in serie A, voglio dire, li fanno tutti, anche Arnautovic, Arnautovic, Scamacca, che differenza c'è, la stessa roba, cioè, nel senso, Arnautovic, secondo me, è anche più forte di Scamacca, è un centravanti normale, che ha fallito in Premier, complice l'infortunio, figuriamoci all'Inter, che ha il doppio delle pressioni, dove, ah, cioè, all'Inter hanno fallito gente come, cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando, dai, cioè, all'Inter hanno fallito gente come, come Bergkamp, guardate che vado avanti, e non può fallire uno come Scamacca, quindi, evidentemente, non aveva le giuste motivazioni per andare in una big, quindi, fortunatamente, vuol dire che non faceva il caso dell'Inter, punto, perché, se tu vieni all'Inter, devi essere volenteroso a avere le palle per venire all'Inter, Scamacca non ha scelto l'Inter, amen, vuol dire che non era pronto, quindi ci abbiamo guadagnato, perché avresti rischiato di prendere un giocatore che non, dove, che magari non era all'altezza, sentimentalmente, di reggere le pressioni che si regolano a Milano e soprattutto sponda Inter, stop, questo è, quindi, a me, sinceramente, non mi fa né caldo né freddo, anche perché preferisco di netto Balogun, visto che è la prima scelta adesso per la terza punta, però, diciamoci la verità, la questione la sappiamo, Inzaghi è innamorato di Morata, Inzaghi è innamorata, cioè, diciamo, era il titolo della gazzetta, comunque, Inzaghi è innamorato di Morata, poi, come diceva la gazzetta, Scamacca piaceva un po' a tutti perché era un po' il compromesso, perché è la prima punta fisica che vuole Inzaghi, è uno, comunque, d'aria di rigore, è un opportunista, anche tecnicamente per i piedi non era male, quindi, era un compromesso che piaceva un po' a tutti, però, ripeto, l'Inter ha fatto la stessa offerta dell'Atalanta, 25 più 5 di bonus, non si è fermata a 23, però, i 5 dell'Inter di bonus erano difficilmente raggiungibili con Scudetto e altri obiettivi, quelli dell'Atalanta, invece, erano più abbordabili, ma è normale, l'Atalanta gioca l'Europa League, l'Inter gioca la Champions, voglio dire, l'Atalanta arriva a quarta, arriva a quinta, a sesta, l'Inter, sono tre anni che arriva nelle prime tre, anzi, sono quattro anni che arriva nelle prime tre, è una cosa normalissima, è una cosa normalissima, cioè, l'Inter è l'Inter, l'Atalanta è l'Atalanta, ci sono le categorie, quindi, nel senso, non stiamo qua a parlare, l'Inter ha offerto gli stessi soldi, ha scelto il ragazzo perché non si sentiva motivato di andare all'Inter e ha dato l'Atalanta, scelta condivisibile, non c'è nessun problema, ma non stiamo qua a strapparci i capelli per uno che ha fatto quanti, 16 tolco Sassuola, l'anno dopo è sparito il West Ham, al Geno quanti gola aveva fatto? 9, 9 gola, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Quindi, Balogun è il pallino di ausilio che in questo momento sta convincendo anche Inzaghi, perché Inzaghi si è anche reso conto delle qualità dello statunitense, perché Balogun è un giocatore più dinamico, sicuramente alto 1,78, però comunque più alto di Lautaro, è una seconda punta fatta e finita Balogun, ma è un grande goliador, l'anno scorso 26 gol con Ren, è un giocatore che sente la porta, vede la porta, è uno che dribbla, che salta l'uomo, quindi è soprattutto un attaccante veloce, e nel calcio moderno sapete quanto è più importante la velocità piuttosto che l'attaccante puro, anche se serve sempre l'attaccante puro fisico, però abbiamo un certo Marcos Turan, che secondo me è stato un po' sottovalutato da tutti quanti, perché? Perché l'hai preso a zero. Tra l'altro vorrei approfittarne per fargli gli auguri, perché oggi compie gli anni il nostro Tikus, il nostro numero 9, auguri a Marcos Turan. Che tutti, no, non può avvenire, come dire, no, è passato un po' in sordina perché, no, ma si serve l'attaccante di qua, sì, però, voglio dire, Turan non è che hai Correa e Lautaro solo, hai anche un certo Marcos Turan, quindi, però comunque a parte questo, normale che l'attaccante serve, però serve, ma Balogun è un giocatore di tutto rispetto, anzi, ma che è di tutto rispetto, un giocatore è un top player, cioè, se guardiamo Balogun in prospettiva, ha tutte le carte regole per diventare un top, è normale. È normale, però, comunque, costa. Costa, ma sulla trattativa con l'Arsenal, che l'Arsenal comunque non è che può aspettare neanche tanto, visto che comunque non è che ha raggiunto grandissime offerte per Balogun. L'Inter offrirebbe 35 più 5 di bonus, i stessi soldi che dovevano dare all'infame, quindi 40 milioni totali, con, attenzione, perché l'Inter inserirebbe una clausola per la rivendita, quindi una percentuale per la rivendita all'Arsenal. abbastanza alta, quindi, sono stata 15-20%, comunque molto alta. Quindi, e l'Arsenal comunque non è che può tanto aspettare, perché servono i soldi. L'Arsenal quest'anno ha fatto acquisti, Declan Rice, forse prende il portiere Raja, cioè, poi, comunque, parliamo che, diciamo anche una cosa, l'Arsenal è pieno agli attaccanti, quindi è normale che cerca di vendere Balogun, non è perché tanto, ah no, però se te lo vende l'Arsenal vuol dire che è una merda, no, perché l'Arsenal ha Trossard, Gabriel Jesus, che stessate seppur è spaccato, quindi. Trossard, Gabriel Jesus, Averz, Declan Rice, Chietà è pieno agli attaccanti, giustamente, deve vendere anche per comprare, poi, penso, il sostituto anche di Gabriel Jesus, che è fuori fino a quanto, non so, fino a un bel po' di tempo, comunque. A parte questo, si stanno convincendo per un attaccante, a me piaceva un sacco, Balogun. Ripeto, è una seconda punta, avrebbe quel terzo attaccante, poi, facendo uscire quel bidonazzo brillatore di Correa, si andrebbe su una punta fisica, e io spero tutta la vita che Marotta mi regali il mio sogno all'Inter, che è Beto, fortissimo, fortissimo Beto, molto più forte di Scamacca, secondo me, secondo il mio modestissimo parere, però Balogun è uno come un giocatore, comunque, volenteroso di venire all'Inter, non come altri, non come altri, quindi, uno che ha già scelto, diciamo, la sua destinazione. Abbiamo visto ieri le storie, inzitut oggi, ha fatto gli auguri a Turam, quindi, loro sono poi Marcus e Follorian, sono amici di Pecchia Data, e ieri ha fatto una storia che ha colpito tutti noi tifosi, mentre guardava il documentario del fenomeno in maglia nera azzurra, quindi. Qui, tra l'altro, oggi Turam ha messo like a un post di Sport Mediaset, dove univa, insomma, dove parlava sia di Turam che di Balogun. Comunque, occhi, occhi aperti, perché quando meno te lo aspetti, Marotta e Ausilio hanno il colpo in canna, e questo lo sapete meglio di me, quindi, ripeto, occhi aperti, perché il derby statunitense con il Milan con Pulisic è un passo. Occhi aperti. Detto questo, ragazzi, poi, anche lì, mi fanno ridere i tristoni che dicono, No, no, però, siamo a due settimane dall'inizio del campionato e ancora non abbiamo un'attaccante, Zang, dove sono i soldi di qua, eh, i soldi della Champions, i soldi... Allora, allora, i soldi della Champions è un discorso che abbiamo già fatto, non voglio continuare a ripeterlo, perché non voglio continuare a ripeterlo. I soldi di Onana non mi sembra che l'interno li stia spendendo, perché Samarzec non te lo regalano, Sommer non te lo regalano, Bissec non te lo regalano, Frattesi non te lo regalano, Balogun, o se fosse arrivato a Scamacca, comunque, nessuno nel Sassuolo, nel Arsenal te lo regalano. Quindi, di che cazzo stiamo parlando? L'Inter sta spendendo più di tutti. Di che cazzo stiamo parlando? No, veramente, di che cazzo stiamo parlando? L'Inter sta spendendo più di tutti, deve arrivare anche il secondo, oggi, Bento Krasch, portiere dratelico paranense, ha detto che è arrivata un'offerta dall'Inter, ha detto che il mio procuratore ha la mia vita tra le mani, quindi, dichiarazioni fortissime, vedremo come portiere piace, però, secondo me, quando è uno Spankovic che può fare il secondo, secondo me, 9 milioni, anche se non potrebbero risultare anche troppi, però vediamo. Comunque, lasciamo lavorare in tranquillità Marotta e Auxilio, però, a me sentire che siamo per colpa della dirigenza, siamo senza attaccante, no. No, no, coglionazzi, non siamo per colpa di Marotta senza attaccare, siamo per colpa del vostro idolo infame di merda, per quell'infame. Perché se quell'infame non decideva di andare a parlare al telefono col Milan, se si deve con la Juve, avremmo l'attacco al completo. Sperando che uscisse Correa, ma avremmo l'attacco al completo. Quindi, non è che è Marotta, che no, perché siamo lenti e non troviamo un attaccante, no. No, è il vostro amico infame che ha fatto sì che ci troviamo a due settimane all'inizio del capitolo senza attaccante. Basta con le stronzate, basta. E nessuno lo dice, però, anche i giornali. Non è che dicono, ah no, l'Inter è in ritardo. No, l'Inter non è in ritardo, è l'infame, che non lo voglio neanche pronunciare, che ha ritardato il mercato dell'Inter. Che si è fatto attendere, si è fatto attendere, poi dopo, appena trovato un accordo, ha deciso ben bene di non rispondere al telefono. Intanto, prima si era messo a sedere con la Juve e col Milan. Eh, ma di cosa parliamo? E c'è gente che lo difende ancora, ragazzi. Pensate. Non so chi è il Pedro, se è l'infame o chi lo difende ancora. Comunque, ripeto, non interessa. Può andare alla Juve, può andare dove vuole. Comunque, l'Inter non è in ritardo per colpa di Marotta, di Ausidio, di Zanga. L'Inter è in ritardo sul mercato, soprattutto per l'attaccante, per colpa di un infame di merda che ha scelto di sedersi al tavolo con gli infami. E noi, e noi, chi si siede con gli infami, per noi è una merda. Stop. Amala sempre, sempre, forza Inter. Un bacione a tutti. Fiducia, che saremo più forti dell'anno scorso, come l'anno prima, come l'anno prima ancora, e come l'anno prima ancora. Amala sempre.